un saluto a tutti da itech italia oggi siamo in macchina in quanto abbiamo la possibilità di provare questa cassetta con l'adattatore aux per sentire la musica dal telefono nonostante non si abbia un'uscita aux sullo stereo o comunque un lettore cd questa è una cassetta che abbiamo comprato su ebay ad un prezzo veramente modico di quattro euro e mezzo cinque e funziona grazie a questo contatto che praticamente simula il girare della cassetta e permette allo stereo di ricevere il file audio tutto quello che c'è da fare è inserire la cassetta all'interno del settore dell'entrata della cassetta e collegare con il filo che fuoriesce dalla cassetta il cavo aux il telefono tutto quello che ci sarà da fare sarà in questo mio caso cliccare qui su tape cd in modo tale da fare entrare lo stereo modalità cassetta e semplicemente entrare nella musica farla partire e ragazzi abbiamo la nostra musica ovviamente ci saranno dei problemi di equalizzatore tutto sarà sistemabile dal telefono e dall'equalizzatore della macchina per questa guida tutto un saluto a tutti da high tech italia